sono Gianluca Iroldi il titolo è cogenerazione protagonista silenziosa della transizione energetica sicuramente la cogenerazione sarà una protagonista della transizione energetica vedremo poi anche perché ho messo poi l'aggettivo silenziosa soprattutto perché ormai ultimamente si parla molto di idrogeno per cui magari affronteremo anche brevemente questa tematica relativamente ai motori endotermici due parole sul gruppo AB il gruppo AB 40 anni si occupa di cogenerazione quindi ingenerizziamo, produciamo, installiamo e manuteniamo i pianti di cogenerazione quello che vedete rappresentato è il polo produttivo AB quindi vedete in primo piano lo stabilimento produttivo sono 36.000 m2 di coperti io ho tutte le varie società che compongono il gruppo l'ultima nata è Abigrade la società che si occupa di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie legate alla protezione dell'ambiente alla sostenibilità aziendale l'ultimo progetto sviluppato è stato BioChange che è un sistema di upgrading di biometano quindi per la trasformazione di biogas in biometano tramite un sistema membrale magari poi faccio anche su questo un breve cenno magari chiedo dalla regia di far partire visto che abbiamo associato ad AB il logo AB Better Way un breve filmato che sta appunto a rappresentare quello che vuole essere AB nei prossimi anni la sostenibilità è il futuro ma quando ne parliamo nel quotidiano spesso usiamo parole come limitare, ridurre, eliminare o prevenire esiste però un modo di agire in maniera circolare in grado anche di ottimizzare, aumentare, incrementare e migliorare semplicemente di aggiungere valore è quello che fa AB a livello globale da oltre 40 anni rendere le imprese più sostenibili, competitive e virtuose aumentando l'efficienza e allo stesso tempo incrementando i profitti grazie a innovative soluzioni di sostenibilità energetica come cogenerazione da metano e biogas upgrading e liquefazione del biometano trattamento delle emissioni in atmosfera impianti, competenze, tecnologie e servizi capaci di rendere il tuo modo di produrre semplicemente migliore AB a Better Way non lo scaricate a casa, facciamo il contrario parliamo sempre di cogenerazione verso la transizione energetica e stiamo parlando in questo caso di motori endotermici una stima dell'installato in Europa quindi si parla di circa il 45% di installazione di cogenerazione con motori alimentati a gas naturale di cui quasi il 90% in assetto cogenerativo e un'altra parte, un po' più della metà che utilizza combustibili, diciamo, quali il biogas biogas derivante dalla digestione aerobica di diverse sostanze materiali che poi vedremo ecco, il futuro come potrebbe essere? in futuro non si sa quanto lontano carbon free quindi sicuramente utilizzare biometano che deriva da biogas noi abbiamo già installato per esempio stiamo installando un impianto di cogenerazione per un'azienda multinazionale italiana in Inghilterra un impianto della cogenerazione da 1500 kilowatt che utilizzerà come combustibile biometano in realtà il metano che prenderanno sarà il metano dalla rete UK ma tramite un contratto bilaterale con un cliente o con un fornitore di biometano utilizzeranno questo biometano per ridurre la CO2 questo speriamo che sia possibile farlo anche in Italia a breve se cambierà la normativa sicuramente quindi è interessante immettere biometano in rete e poi riprenderlo a centinaia di chilometri di distanza facendo dei contratti bilaterali e annullando quelle che sono le emissioni di CO2 abbiamo poi delle applicazioni che sono sempre con biometano con utilizzo della CO2 per esempio nelle serre dove già adesso abbiamo applicazioni in serra quindi in serre che fanno pomodori, verdure la CO2 in questo caso serve per aumentare e velocizzare la crescita delle piante abbiamo poi applicazioni biogas che sono quelle che tutti naturalmente conosciamo e l'ultima di cui adesso ormai è quella che va un po' più di moda è sicuramente tutta la parte relativa all'idrogeno vediamo anche cosa ci sta dietro cominciamo a parlare della parte di biometano biogas quindi dalla digestione aerobica di refluizotecnici tipicamente biomasse vegetali scarti agroindustriali e dalla frazione organica del rifiuto solido urbano quindi il biogas che si ottiene invece che mandarlo come fatto in passato ad un cogeneratore quindi ad un motore endotermico può essere mandato può essere trasformato in biometano diciamo che il processo prevede prima solitamente c'è una torre ad ammoniaca che toglie che serve perché l'ammoniaca è diciamo deleteria per le membrane c'è un sistema anche qui di deumidificazione del biogas che deve essere trattato quindi raffreddato e deumidificato comprensivo di una soffiante perché naturalmente esce dal digestore che è quasi a pressione a zero andiamo qui invece circa sui 400 millibar e poi c'è un sistema anche per l'eliminazione dei VOC e dell'H2S che sono appunto danno problemi alle membrane e poi anche in rete rischiere di avere un biometano non conforme a questo punto posso tramite il nostro sistema un sistema di membrane la particolarità delle membrane che alimentate ad una certa pressione hanno una permina in maniera differente la CO2 dalla molecola di metano per cui la CO2 permea, viene raccolta può essere mandata ad un posto ombustore oppure può essere anche recuperata invece la parte di biometano qui ci sono diversi passaggi si fa questo noi operiamo ad una pressione di 9 bar abbiamo tre stadi questo per arrivare ad una percentuale di biometano superiore al 99% che poi può essere, diciamo così, messa in rete dopo questo sistema c'è un processo di misura in modo che il biometano conforme venga tramite una cabina remi pompato a pressione di 50-60 bar a seconda di quelle che sono le pressioni della rete SNAM la parte invece non conforme può essere ricircolata e rimandata al digestore in questo caso poi l'utilizzo può essere, come dicevamo o si può entrare nella rete SNAM alcune volte ci sono anche delle reti che sono quelle più locali che sono a pressione più basse per esempio 4-5 bar le problematiche in questo caso sono relative all'utilizzo del metano nel periodo estivo noi siamo molto presenti anche in Francia lì stanno facendo un sistema molto fatto come si deve in cui addirittura ricomprimono poi il biometano a pressioni superiori ed è lo stato incentiva questo tipo di trasmissione in Francia sarà perché loro hanno nucleare la rete del gas non è stata così diciamo sviluppata per cui anche lo sviluppo del biometano serve anche per loro per incrementare questo tipo di diciamo l'utilizzo di questo tipo di combustibile in realtà tramite biometano altrimenti quello che si può fare è utilizzare renderlo comprimerlo quindi utilizzarlo come GPL per i trasporti e poi o altrimenti liquefarlo tramite diverse tecnologie ed avere l'LNG e poi appunto utilizzarlo per i trasporti diciamo che al momento la normativa consente diciamo di rendere particolarmente appetibili dal punto di vista economico applicazioni dove si parla di forsu oppure di trattamento acque e non da in questo caso non è possibile utilizzare matrici di altro tipo come per esempio quelle che ci sono in agricoltura c'è una serie di CIC che ti danno di premi per essere biogas avanzato in questo momento è premiato diciamo le applicazioni da forsu ma speriamo che con il nuovo i nuovi incentivi che sembra che sono anche a fine anno si allarghi un po' quella che è la platea perché c'è bisogno di maggiore biometano immesso in rete parliamo invece poi questo ecco vi faccio vedere un impianto questo è un impianto che abbiamo realizzato qui in provincia di Milano quello che vedete giù in fondo vedete in basso c'è il trattamento biogas ci sono i filtri per il trattamento del VOC e dell'H2S poi il sistema di upgrading la cabina remi per la compressione interessante quello vedere quello che c'è in primo piano perché considerate che questi sistemi sono altamente energivori e quindi consumano un sacco di energia elettrica che deve essere prelevata dalla rete in questo caso ci abbiamo associato un cogeneratore e quindi produciamo in cogenerazione poi con recupero termico e quindi alimentiamo l'impianto di upgrading con anche cogenerazione quindi un sistema perfettamente integrato parliamo adesso di idrogeno visto che ormai la moda vuole anche un po' che si parli di idrogeno parliamone un po' anche noi per vedere poi che cosa implica l'utilizzo di idrogeno all'interno di un motore a combustione interna innanzitutto naturalmente perché l'idrogeno perché per definizione è carbon neutral c'è un potenziale enorme per i trasporti una crescente disponibilità di energia rinnovabile perché naturalmente a mio avviso l'idrogeno andrebbe prodotto esclusivamente tramite energia rinnovabile e poi siamo già avuti qui siamo in casa SNAM i primi esiti positivi per l'aumento della percentuale di idrogeno nella rete gassa e quindi c'è una pianificazione anche ipotetica di dorsali che vanno completamente ad idrogeno questo diciamo uno schema diciamo futuribile di quello che potrebbe essere il futuro vado vado veloce quindi diciamo energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile quindi da fotovoltaico eolico da biogas tramite un motore endotermico con questa energia si può fare l'idrolisi si può produrre l'idrogeno che poi può andare anche ad un motore quindi può produrre energia elettrica oppure l'idrogeno può essere utilizzato per il trasporto per i processi tipo industriale metal refining può essere mixato anche con biometano e quindi può andare nel gas network esistente poi applicazioni in cui si aggiunge addirittura azoto e CO2 e si vanno poi anche a produrre ammoniaca ed altre metanolo un po' futuribile diciamo decurbanizzare attraverso l'idrogeno abbiamo naturalmente il numero metanico è circa abbiamo circa 4 in un gas al 97% l'altro è etano e propano la cosa che si vede è che il potere calorifico anche c'è l'indice di Wobbe che è inferiore quindi l'idrogeno ha un potere calorifico inferiore quindi bisogna aumentare la portata in un certo senso nella rete il numero metanico per definizione è 0 nell'idrogeno se io comunque faccio un mix tra idrogeno e metano naturalmente riduco il numero metanico e questo può dare problemi per le applicazioni in motori endotermici 92 il numero metanico che troviamo in nord Italia il centro-sud Italia si trova un 70% solitamente un altro parametro da guardare è la velocità di fiamma vedete che è molto alta paragalabile col gas metano quindi anche questo può dare problemi la tabella di destra fa vedere che per un utilizzo del 20% di idrogeno in una miscela di metano si ha una riduzione della CO2 del 7% non è tantissimo è qualcosa di quello che si può fare ad oggi ecco qui riprendendo brevemente abbiamo problemi sul numero metanico l'indice di Vobbe lo abbassa quindi il potere calorifico è più basso la velocità di fiamma aumenta e c'è anche un po' problema sull'esposibilità perché sapete che l'idrogeno non è proprio così stabile come il metano questo di fatto dà delle problematiche che devono essere tenute in considerazione quindi c'è un aumento dei picchi di pressione delle temperature di fiamma aumento del rischio di detonazione di ritorno di fiamma reattività chimica nei materiali problemi di controllo della carburazione in realtà si ha anche un aumento dell'NOX nel senso che l'idrogeno le diminuisce gli NOX però devo controllare la combustione per cui poi diventa magari difficile e va a finire che vado un po' a deve essere tenuto sotto controllo è un aumento delle sollicitazioni meccaniche in sostanza devo lavorare con delle pressioni medie effettive all'interno del pistone più basse proprio per evitare un certo tipo di problemi e questo naturalmente comporta una diminuzione della potenza elettrica e dell'efficienza tanto per darvi un esempio adesso noi questo lo chiamiamo Ecomax 15 è un 1500 kilowatt questo darebbe 1500 kilowatt a metano in questo caso da 888 kilowatt comunque mantiene un buon rendimento elettrico che è del 39,7% ecco qui questi sono motori i gno di Enbacher che da anni hanno cominciato a sviluppare motori idrogeno mixati con altri tipi di combustibili e vediamo che sostanzialmente fino al 5% di idrogeno non c'è nessun problema quindi si possono mantenere diciamo i motori i motori esistenti quando comincio a passare da un 5 a un 20% comincio a dover fare un certo tipo di regolazione e questo potrebbe essere diciamo dell'idrogeno mixato nelle reti del gas anche se mi sembra che parli del 10% attualmente non arriva al 20% queste sono versioni già disponibili se cominciamo a salire arriviamo quindi a idrogeno che va al 60% doppia rampa quindi idrogeno gas naturale o addirittura applicazioni 100% idrogeno ci sono dei progetti pilota che stanno girando ma sicuramente proprio per risolvere tutti i problemi che abbiamo visto prima c'è uno studio dietro e naturalmente si sta tentando di vedere qual è la possibile applicazione ci ho quasi finito i progetti pilota quindi ce ne sono in giro per il mondo che utilizzano già adesso funzionanti miscele di idrogeno in diversa percentuale come potete vedere c'è anche un primo impianto che diciamo gira di idrogeno puro quindi in conclusione l'idrogeno è un vettore energetico che ha senso produrre naturalmente come dicevo da energia rinnovabile le problematiche da risolvere legate al trasporto non sono banali comunque bisogna tener conto che possono aumentare anche i volumi e naturalmente la miscelazione dell'idrogeno al gas naturale modifica le caratteristiche e quindi questo va tenuto in considerazione vengo un po' al titolo perché la silenziosa la cogenerazione quindi a questo punto lasciamo stare la cogenerazione a gas perché comunque proprio per arrivare alla transizione ecologica intanto che aspettiamo i motori ad idrogeno intanto che aspettiamo biometano che ce ne sia più in rete si può continuare a fare cogenerazione è stata definita anche dall'agenzia europea per l'ambiente come l'efficienza energetica di fatto è la prima fonte che bisogna diciamo andare a ricercare il primo combustibile perché si può parlare anche di efficienza energetica in quanto combustibile e quindi sicuramente la cogenerazione sarà la protagonista silenziosa non troppo nel senso che comunque cogenerazione si continua a fare e si continuerà a fare e quindi questo è il nostro canale cogeneration channel sono caricate diciamo interviste applicazioni con youtube di applicazioni fatte un po' in tutto il giro per il mondo e spesso diciamo metteremo qualcuna anche con idrogeno speriamo grazie mille